Presidente De Bellis, avete appena presentato le nuove maglie per la stagione, quali presupposti ci sono per iniziare e quale valutazione su questo momento un po' particolare per il calcio dilettantistico? Questo momento è un momento difficile, ovviamente stiamo aspettando da parte della fedezione delle decisioni finale l'ufficialità della sospensione o annullamento del campionato che quasi sicuramente oramai non si riprenderà più, però a questo punto sarebbe giusto sapere l'ufficialità in modo che possiamo organizzarci per la ripresa, anche noi c'è tanta voglia, abbiamo presentato queste maglie, erano già pronte per questa primavera, poi ovviamente abbiamo dovuto sospendere l'attività e abbiamo provveduto a presentare adesso le maglie a tutti i ragazzi del settore giovanile fino alla prima squadra e quindi ci prepariamo per la nuova stagione, questo come auspicio per un ottimo inizio di stagione. Stiamo aspettando l'ufficialità, almeno ci auguriamo tutti che vada a buon fine il discorso dei regionali, stiamo aspettando che ci comunicano perché abbiamo due squadre per poter fare i regionali, i 2005 e i 2006 e eventualmente anche i 2004, se ci viene data la possibilità faremo il riprescaggio, chiederemo il riprescaggio per il 2004. E riguardo la stagione appena conclusa sì, ci sono stati problemi anche riguardo questione rimborsi ad esempio? Assolutamente nessuno, noi abbiamo pagato fino a quando loro hanno giocato, come tutte le società, come Gatronde ha finito il campionato, l'ultima partita l'hanno fatto il 25, questo non è il 26 febbraio, noi abbiamo pagato i rimborsi fino a fine febbraio, quindi siamo in regola, siamo in regola. Ecco, c'è un po' di amarezza anche per questa conclusione un po' repentina, eravate in una buona posizione comunque. Oltretutto c'era un'ottima posizione, poi la squadra stava giocando veramente bene, si era trovato un'ottima amarezza con tutti i ragazzi, quindi un po' di amarezza sicuramente c'è stata.